Io sono in grado di guarire i vostri attacchi! Ezio, chiudi le porte! Vengono dall'altra parte! E prendete l'altra strata! L'altra strata! Le porte! Non si appaggia! Vengono dall'altra strata! Vengono dall'altra strata! Ezio, chiudi le porte! Lo vedo! Via! Vengono dall'altra parte! Vengono dall'altra strata! Vengono dall'altra strata! Vengono dall'altra strata! questo sarebbe il campo